Abortire in Abruzzo oggi è ancora più difficile. Sotto forma di forte raccomandazione alle ASL, la regione ha inviato una circolare affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza sia effettuata preferibilmente in ospedale e non presso i consultori. Il testo è firmato dall'assessore alla sanità Nicoletta Veri e dal direttore generale Claudio Damario. Una scelta questa che arriva a poche settimane da quella simile fatta da un'altra giunta capitanata da un esponente di Fratelli d'Italia, quella delle Marche. E' un provvedimento a favore delle donne, dice la Veri, perché il trattamento deve essere svolto in strutture mediche adeguate, cosa che spesso i consultori non sono. La questione ruota attorno alla pillola RU486, un farmaco approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consente di abortire nelle prime settimane di gravidanza senza dover ricorrere a invasivi interventi chirurgici quali l'aspirazione e il raschiamento. In questi giorni a Pescara sono apparsi dei manifesti provita in cui si mette in discussione la libera scelta delle donne. Nella pubblicità la donna è rappresentata come una biancaneve inerme e la pillola diventa una mela avvelenata, ovviamente in contraddizione a quanto appurato dalla comunità scientifica. L'ospedalizzazione per il trattamento farmacologico richiede il ricovero e tempi burocratici più distesi in uno dei momenti più delicati della vita di una donna, senza contare che spesso bisogna scontrarsi con medici obiettori di coscienza che sarebbero maggioritari in Abruzzo. Qui, secondo il Ministero della Salute, sarebbe obiettore oltre l'80% dei ginecologi. E se i medici della propria città si rifiutano di collaborare, allora la donna è costretta a recarsi altrove o a ricorrere agli spesso fatali aborti clandestini. Partiti, associazioni e sindacati non si sono fatti scappare la raccomandazione della Verì. Abbia il buon gusto di dimettersi, dice la pentastellata Sara Marcozzi. Basta far politica sul corpo delle donne, fanno sapere da Coalizione Civica, che ha lanciato un sit-in per domenica mattina a Pescara in difesa dell'RU 486 e della legge 194 che dal 78 depenalizza e disciplina l'aborto. Dal centro-sinistra Marinella Sclocco e Stefania Catalano parlano di una scelta assolutamente fuori dalla storia. Si ritira il provvedimento emanato, sollecita rifondazione comunista, mentre la CGL chiede un confronto concreto sulla medicina territoriale. I consultori infatti, nati in maniera autogestita e regolamentati nel 75, nel corso degli anni sono stati depauperati, ridotti a corto di personale e molti sono stati costretti a chiudere. Oggi spesso non riescono più a fornire il sostegno richiesto da molte donne, in primis a livello di informazione. Lo ammette la stessa Verì, giustificando il provvedimento. L'assessore però preferisce ospedalizzare piuttosto che rafforzare i consultori pubblici e il discorso non può che prendere una piega bioetica. In ballo c'è l'autodeterminazione della donna e quindi dell'intera società.